Ciao amici! Finalmente siete arrivati anche voi! Io e Bambù stiamo organizzando la festa di Halloween qui, nel paro-west di Gardaland! Ma che stai facendo? Credi che non se ne siano accorti? Che sei tu! DJ! Ma non sei proprio capace di mantenere un segreto? Questo era il mio costume di Halloween! Adesso tutti sapranno che il fantasma sarò io! Ah Bambù! Ma nella nostra festa nessuno sarà in costume! Ho trovato un gruppo di persone che... beh... diciamo... un tempo ecco erano... erano vive! Ragazzi! È il vostro momento! E questi? Da dove arrivano? Fantasmi del West! Veri! O meglio... reali! Avvenute bene! Sono divertenti! Grazie! 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 Grazie a tutti. Visto? Che ti avevo detto? Già, è così divertente. Questa è la festa di Halloween più fantastica del mondo! Questa è la festa di Halloween. Non avevo mai festeggiato Halloween con dei cowboy fantasmi. Bambù, siamo a Cardaland, eh? Tutto può succedere. C'è la festa di Halloween. 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 Ciao! C'è la festa di Halloween. Non finiscono qui. Vi aspettano tanti altri spaventosi spettacoli. A proposito, prezzemolo dov'è finito? No, chissà. Sarà stato rapito da qualche fantasma. C'è la festa di Halloween. C'è la festa di Halloween. C'è la festa di Halloween. C'è la festa di Halloween.